Sia lodato Gesù Cristo Sale incesantemente senza trovare tregua e oltrepassa le nubi fino ad arrivare a Dio la preghiera del povero, dell'oppresso, dell'umile E' una certezza che il Signore si dà perché dice che non fa differenza fra chi è ricco e fra chi è povero Dunque, qual è la situazione di colui che chiede a Dio e prega? Qual è la situazione migliore per essere ascoltati? Non sprecate tante parole, non è a forza di parole che la vostra preghiera viene accolta e ci spiega Gesù nel Padre Nostro Pregate così Padre Nostro che sei nei cieli Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà Ma è la preghiera del povero che viene ascoltata A somiglianza anche di quella del ricco Ma si tratta di una povertà tutta interiore Che trova una situazione del cuore di umiltà e di povertà davanti a Dio E' vero che Gesù dice Guai a ricchi è facile che un cammello entri per la crona di un ago Che un ricco entri nel regno dei cieli Ma nulla è possibile a Dio Non c'è dunque una condanna della ricchezza Ma c'è il pericolo delle ricchezze che inquinano il cuore E non permettono che sia un cuore umile Il ricco in genere sente la potenza della sua posizione e del danaro Sente la potenza delle proprie capacità E dunque non è abituato a chiedere Soprattutto non è abituato a chiedere con umiltà e povertà Ed è questo che crea il pericolo di non essere ascoltati Chi invece sperimenta il morso della povertà Delle umiliazioni Delle ingiustizie continue che vengono perpetrate Verso chi non ha nessun tipo di potere o di posizione Costui può avere un cuore meglio disposto per pregare Dio E la preghiera perfetta dunque sale da un cuore umile Contrito, umiliato nella povertà Così che Dio, Gesù, da ricco che era Si fece povero, cioè da figlio di Dio Si fece figlio della Vergine Maria Per salvare noi Se dunque il Maestro si è messo nella posizione della povertà terrena Del digiuno, della fame, della persecuzione per essere ascoltato Così dobbiamo fare anche noi Dunque Non c'è posizione migliore del cuore di quello che È per terra È umile Si umilia davanti a Dio Un altro esempio bellissimo che noi troviamo nella Bibbia È la preghiera della Regina Esther Che è figura da sempre Della Vergine Maria E lei che appartiene al popolo santo deportato Nell'antica Persia È con lei che deve Nella sua posizione Non è privilegiata Implorare Il re persiano Perché il suo popolo non venga esterminato dal malvagio Haman Ebbene lei si umilia davanti a Dio Si rende povera Digiuna Si veste di sacco Fa digiuno tanto tempo Fa digiunare anche gli altri Tutto il suo popolo Per chiedere non un diritto alla vita Ma la grazia della salvezza In una terra di deportazione Dove non si hanno diritti E dove il malvagio può avere La possibilità di esterminare Dunque Questa posizione E questi insegnamenti biblici Ci dicono come il Signore Si è pronto ad ascoltare I suoi eletti che lo supplicano Nella povertà Con questa povertà di cuore È la povertà di chi non ha nulla davanti a Dio E sa riconoscersi come un niente davanti a Dio Quando noi preghiamo spesso Preghiamo un po' Mi si passa il termine Alla disperata Gridando Quasi che Dio debba sentirci O pretendendo Qualche cosa perché è giusto Perché le situazioni Che incomodano su di noi Sono terribili Di sofferenza Di malattia Di persecuzione Ma nonostante tutto Poiché la nostra condizione particolare Appartiene al genere umano Che è in una condizione di colpe Di peccato davanti a Dio Noi non siamo meritevoli di nulla Ma c'è questo canale di grazia Che Dio ha aperto Perché chi si rivolge a Lui Con questa umiltà Allora Otterrà la grazia per sé E per gli altri Così come L'ha ottenne la regina Esther E così come l'ha ottenne La Vergine Maria Che nel Magnificat Proclama Che il Signore ha fatto grandi cose in lei Perché ha guardato L'umiltà La piccolezza Il non contare nulla Dico lei che invece però Si è sempre fatta a sua serva Rinunciando a tutto Ciò che era suo In accordo con la volontà di Dio E rinunce dunque anche Quelli che sono i nostri Averi i nostri diritti In funzione di essere ascoltati da Dio Per il bene Delle anime Per la salvezza eterna E il fondamento Solido di ogni preghiera Il resto Dio lo conosce I nostri bisogni materiali Ci verrà dato in sovrappiù Preghiamo dunque Come ci dice Gesù Il Padre Che non negherà Lo Spirito Santo Il suo Santo Spirito A chi glielo chiede Con questo Spirito Possiamo attraversare Le montagne Salire Le cime più alte Possiamo Camminare sul fondo del mare Nulla ci fermerà Perché stiamo camminando Nella volontà di Dio Dio vi benedica Allora ci fermerà